Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati qui nel mio canale Io sono Griggs, oggi ragazzi sono qui finalmente, signori miei, ritornato con un nuovo glitch bomba su GTA 5 online Come è stato YouTube? Spero tutto bene, oggi sono qui dove come avete detto dal titolo Vi andrò a presentare questo nuovo glitch veramente fantastico che vi permetterà in parole povere di andare a moddare il vostro RC Bandito Che sarebbe praticamente la macchinina radiocomandata che possiamo appunto avere nell'arena se l'abbiamo comprata Questo glitch principalmente a cosa serve? Andremo a trasferire le mod se abbiamo appunto un veicolo moddato Magari con colore mordato, targa di North Yankton, fumo patriottico, ruote Formula 1, ruote di Bennis Appunto tutte queste modifiche verranno trasferite sul vostro RC Bandito Che successivamente potrete poi usare questo RC Bandito moddato per fare altri glitch Come ad esempio il glitch che vi permette di trasferire le mod dall'RC Bandito a un nuovo veicolo che voi più preferite Insomma grazie appunto a un altro glitch che si chiama RC2Car Insomma ragazzi avete già come funziona questo glitch, non voglio dilungarmi oltre Unica cosa prima di iniziare, praticamente ragazzi questo glitch è uguale e identico a uno scorso glitch che vi ho portato nel canale Quindi vi lascerò magari il link nelle schede come anche in descrizione Se magari volete avere una spiegazione più approfondita appunto troverete il link in descrizione Diciamo che in questo video cercherò di andare molto velocemente Questo glitch comunque ragazzi funziona su tutte le console Come già detto andremo a trasferire grazie a questo glitch le mod se possediamo un veicolo moddato al nostro RC Bandito Quindi passeranno tutte le modifiche come cerchi di Bennys, fumo patriottico, quindi il fumo a tre colori La targa di North Yankton, i finestrini verdi, il colore moddato Insomma ragazzi chi più ne ha più ne metta Vi ricordo ovviamente che se non avete un veicolo moddato tra virgolette Potete crearvene uno voi ma potete semplicemente inserire solamente le ruote di Bennys Quindi dovrete comprare un veicolo da Bennys Come già detto è un glitch che era stato patchato in passato Ci ho postato comunque il video appunto, ve lo lascerò come già detto nelle schede Ma è tornato a funzionare, ci sono molti after patch Chi lo fa in un modo, chi lo fa in un altro Io cercherò ragazzi di spiegare secondo come io sono riuscito a moddare il mio RC Bandito Detto questo ragazzi, nulla Prima di iniziare sapete già cosa fare Mi raccomando lasciate il vostro mitico bell Polly Johnson in su che a me fa veramente tanto piacere Inoltre mi raccomando iscrivetevi al canale per altri contenuti Attivando la campanellina che trovate accanto a voi degli iscritti E vi ricordo sempre di entrare nel mio nuovo canale gruppo Telegram Di cui anche questo troverete il link in descrizione E vi ricordo al solito che se vi servono account moddati o account grigliati per PS4 Oppure aggiunta di soldi o servizi di ricoveri per PC Potete contattarmi a uno dei contatti che troverete in descrizione Prezzi più bassi d'Italia Quindi nulla, potete contattarmi su Telegram oppure su Instagram Tutti i social saranno nella descrizione Detto questo possiamo subito partire a bomba con il video Troverete ragazzi i requisiti nella descrizione Ho deciso che da oggi in poi non mi metterò a dire i requisiti Ma ve li lascerò direttamente nella descrizione Quindi assicuratevi appunto di avere tutti i requisiti Se non avete qualcuno potrete farvi richiedere un'aggiunta di soldi nel vostro account per PS4 Oppure più semplicemente trovare un modo per fare soldi per comprare questi requisiti Anche perché il glitch verrà patchato quasi sicuramente a tempo record La prima cosa da fare ragazzi sarà entrare su GTA Online in una sessione pubblica Consiglio di fare questo glitch come vi ho scritto nei requisiti In una sessione pubblica perché questo glitch ho notato che maggiormente funziona appunto in una sessione pubblica Dovrete avere ragazzi il logo di rientro al bunker Quindi assicuratevi ragazzi di avere il logo di rientro al bunker Altrimenti il glitch non andrà a funzionare Qui come vedete lobby pubblica con il logo di rientro al bunker Quindi per iniziare quello che dovrete fare Se siete in mira manuale potrete utilizzare il glitch del teletrasporto Perché dovrete a questo punto uscire dal bunker e recarvi all'arena Per fare questo glitch del teletrasporto assicuratevi come state vedendo dal video Di avere queste icone blu delle attività visibili sulla mappa Vi scriverò nella descrizione nei requisiti come attivare queste icone blu Quindi mi raccomando ragazzi guardate la descrizione Semplicemente andare a fare il glitch del teletrasporto Quindi selezioniamo un'attività più vicina alla nostra arena E dovremo praticamente schiacciare il tasto quadrato, il tasto X per PS4 O comunque i tasti corrispondenti delle altre console Per avviare l'attività dalla mappa Una volta fatto ciò andiamo a partecipare da una persona che stia giocando a GTA Online Con modalità di puntamento diversa dalla nostra A questo punto andiamo a schiacciare semplicemente sul tasto partecipa alla sessione Nel gioco ci sarà il recupero dettagli Una volta fatto ciò ci sarà un primo messaggio di attenzione Dove vi chiederà se vorrete appunto cambiare sessione Una volta fatto ciò ripartecipata la stessa persona Se questa persona avrà appunto una modalità di puntamento diversa Allora il messaggio vi andrà a cambiare E vi dirà appunto che la persona o la sessione a cui stiamo tentando di unirci È in una modalità di puntamento diversa dalla vostra Quindi appunto vuol dire che andrà bene per fare il glitch Rifiudate il messaggio A questo punto vi sarete teletrasportati all'arena Una volta fatto ciò semplicemente entrate nell'arena E a questo punto potremo iniziare il glitch Per prima cosa dovremo semplicemente ragazzi salire su un veicolo moddato Un qualsiasi veicolo moddato al quale vorremo poi passare la mod possiamo dire Quindi tutte le modifiche incluse le modifiche moddate al nostro RC bandito Salire all'interno del veicolo ragazzi e premere la freccia destra Una volta fatto ciò saremo all'interno della entrata O meglio del piano dell'officina dell'arena E tutto quello che dovremo fare sarà non scendere dal veicolo Ma una volta che saremo entrati Dovremo semplicemente ragazzi andare ad applicare una modifica qualsiasi Io in questo caso andrò a cambiare le gomme appunto dal design pneumatici Una volta aver applicato la vostra modifica Potete cambiare appunto modifica come per esempio armatura, freni Ovviamente se il veicolo è moddato e ha il colore moddato La targa di North Jankton o le gomme moddate non andate a cambiare il colore, la targa eccetera Ma appunto un pezzo come ad esempio anche il paraurti andrà benissimo A questo punto semplicemente uscite dal veicolo selezionando l'opzione esce dal veicolo E a questo punto ragazzi potremo iniziare Quindi per prima cosa dovremo assicurarci di avere una missione dei contatti Precisamente ragazzi dei contatti di Simeon o di Geralt Quelle missioni che appunto possiamo avviare dal cellulare Se non ne abbiamo una semplicemente chiamiamo Simeon o Geralt E appunto ce la facciamo richiedere Una volta fatto ciò dovremo a questo punto iniziare il glitch Come si fa per iniziare il glitch? E' veramente ragazzi molto semplice E quindi state a sentire quello che appunto andrò a dire nel video Dovremo recarci allo scaffale dove c'è il nostro RC bandito E quando il gioco è in alto a sinistra ci darà l'opzione premi freccia destra Per modificare l'RC bandito Noi appunto ragazzi dovremo alzare il telefono Dovremo andare sulla lista di attività Dovremo andare sulla missione in questo caso di Geralt o di Simeon E dovremo semplicemente schiacciare una volta il tasto X per confermare E vi ritroverete ragazzi in questa schermata Come state vedendo in questo momento nel video Quello che dovrete fare sarà premere il tasto pausa e il tasto X allo stesso momento E quello che dovrete sentire nel gioco Sarà praticamente che il menu di pausa si andrà ad aprire E sentirete anche un click che vi farà capire che appunto avete accettato questo invito alla partita Quindi semplicemente quello che posso consigliarvi è Iniziate a tenere premuto il tasto pausa Non appena rilasciate il tasto pausa Praticamente un millisecondo dopo che avete diciamo alzato il pollice dal tasto pausa Premete il tasto X per confermare di voler entrare all'interno dell'attività E dovrete appunto ragazzi sentire questo click Come state vedendo in questo momento nel video Quindi se avrete fatto questo passaggio correttamente Quello che posso consigliarvi è magari di prenderci un po' la mano Magari appoggiare entrambi i pollici sul tasto X e il tasto pausa E non appena rilasciate il pollice del tasto pausa Subito dopo premete il tasto X per confermare E sentirete appunto questo click che avete appena sentito nel video A questo punto potrete continuare con il glitch Quello che dovrete fare quindi a questo punto vi ritroverete con il menu di pausa aperto Andate su online Andate su attività Avvio attività create da Rockstar missioni E dovrete ragazzi andare ad avviare in questo caso Una missione qualsiasi del menu delle missioni di Rockstar Io in questo caso andrò ad avviare la missione un lavoro da titano Quindi aspettate semplicemente di entrare ragazzi all'interno della missione E a questo punto vi farà caricare appunto i dettagli possiamo dire della missione Quello che dovrete fare a questo punto quando sarete nei dettagli della missione Tra virgolette dovrete uscire dall'attività E non appena ragazzi vedrete che ci sarà la schermata nera Dovrete aspettare che questa schermata nera andrà a scomparire Non appena andrete a vedere il vostro personaggio all'interno dell'arena Dovrete aspettare circa un secondo E subito dopo ragazzi premere la freccia destra Praticamente dovrete fare questo step di premere la freccia destra Circa 30 millisecondi Deve essere veramente ragazzi uno spazio di tempo veramente leggerissimo Che appunto voi vedete il download in basso a destra dell'attività E appunto prima che uscirà questa scritta download in basso a destra Voi dovete spammare quindi premere oppure premere una volta indifferente Tante volte freccia destra per entrare all'interno del menu delle modifiche dell'RC bandito Se avrete fatto questo passaggio correttamente durante praticamente questo download Se appunto avete spammato freccia destra correttamente L'RC bandito si andrà a moddare Quindi andranno a passare tutte le modifiche Se invece non ci siete riusciti Semplicemente vi ritroverete come me nel video Quindi ci sarà il download Una volta fatto ciò il gioco vi porterà all'interno della missione appunto del nostro contatto Per esempio di Geralt o di Simeon E se il glitch non ha funzionato Semplicemente ragazzi andiamo a riprovare Quindi usciamo dall'attività e ci ritroveremo nuovamente nell'arena A questo punto saliamo nuovamente nel veicolo dal quale vogliamo appunto prendere le modifiche Premere ragazzi la freccia destra Ci si aprirà il menu delle modifiche insomma dell'arena E tutto quello che dovremo fare sarà nuovamente andare a fare una piccola modifica Io in questo caso andrò nuovamente ragazzi a cambiare le gomme Quindi una volta aver fatto la modifica Uscite dal veicolo e semplicemente rifate nuovamente lo step di prima Vi avvicinate davanti all'RC bandito Alzate il telefono Andate sulla lista di attività Selezionate la missione di Geralt o di Simeon Schiacciate una volta X per confermare Vi ritroverete nei dettagli della missione possiamo dire Dovrete iniziare a tenere premuto il tasto pausa Non appena rilasciate il tasto pausa Schiacciate subito dopo il tasto X Quindi il timing possiamo dire da fare in questo glitch è Pausa X Pausa X Non pausa X contemporaneamente Ma pausa un millisecondo dopo X Quindi pausa X Se avete fatto questo passaggio correttamente Sentirete il click poco dopo che il menu di pausa si sarà aperto Vuol dire che appunto avrete selezionato di voler entrare nella missione Ma ci sarà il menu di pausa aperto Quindi come prima andate su online Attività via attività creata da Rockstar Missione Andate ragazzi ad avviare una missione Chiamata un lavoro da titano O comunque una missione qualsiasi Del menu delle missioni di Rockstar A questo punto se vi chiederà di ossare o statela Vi troverete ragazzi all'interno della sala d'attesa Quando sarete all'interno della sala d'attesa con tutti i dettagli della missione Semplicemente premete il tasto cerchio e il tasto X Per uscire dall'attività E non appena ragazzi andrete ad uscire dall'attività Dovrete aspettare circa un secondo Quello che vi consiglio è Non appena iniziate a vedere il vostro personaggio Spammate Quindi premete tante 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 volte freccia destra E se il glitch vi avrà funzionato A questo punto le modifiche andranno a passare sull'RC bandito E qualche secondo dopo vi si aprirà la schermata Possiamo dire con i dettagli della missione del contatto Quindi di Geraldo o di Simeon Invece se non ha funzionato ragazzi vi ritroverete Come me in questo caso nel video Quindi vi basterà semplicemente nuovamente Rifare una modifica al veicolo E appunto ragazzi fare questo passaggio Fino a che non andrete ragazzi a moddare il vostro RC bandito Ora ragazzi vi metto la clip dove il glitch ha funzionato E quindi quello che dovremo fare Sarà semplicemente salire all'interno del veicolo Quindi premere la freccia destra Il gioco ci porterà all'interno del menu delle modifiche Andiamo ragazzi a fare una modifica qualsiasi al nostro veicolo Vi ricordo che se il veicolo è moddato E ha appunto il colore moddato La targa, le ruote, i finestini eccetera Andate a cambiare un pezzo dell'armatura Oppure dei paraurti Io in questo caso andrò a cambiare il design dei pneumatici Quindi a questo punto una volta aver applicato la modifica Semplicemente ritornate al menu principale E premete una volta cerchio E vi si aprirà questo menu dove ci sarà scritto Esci dall'officina, esci dal veicolo oppure esci dall'arena Voi ragazzi selezionate Esci dal veicolo Quindi a questo punto il gioco vi farà uscire dal veicolo Dovrete recarvi allo scaffale dell'RC bandito Alzate il telefono Andate sulla lista di attività Andate nella missione del contatto Quindi di Geralt o di Simeon Schiacciate una volta X per farvi comparire i dettagli della missione E ora come prima Tenete premuto il tasto pausa Non appena avete rilasciato il tasto pausa Subito dopo ragazzi premete il tasto X Per confermare di voler avviare questa attività Se avete fatto questo passaggio correttamente Sentirete il click subito dopo che il menu di pausa si sarà aperto Come appunto vi ho fatto sentire prima nel video Vuol dire che avrete fatto questo passaggio correttamente Un altro consiglio che vi do è quello di Praticamente se andando sulla sezione online E andando a schiacciare il tasto X per entrare nell'attività Diciamo che il gioco ci metterà circa 1 o 2 secondi a caricare le attività Come sarebbero appunto in questo momento nel video Allora vuol dire che la maggior parte delle volte avete Hittato possiamo dire questo primo step Quindi andate a questo punto sulla sezione online Attività avvio attività Created a rockstar missioni E andate ragazzi appunto ad avviare la missione Chiamata un lavoro da titano Una volta fatto ciò lasciate semplicemente caricare I dettagli della missione A questo punto quando i dettagli avranno caricato Semplicemente uscite dalla attività Non appena sarete uscite dall'attività ragazzi Qui vi metto la clip rallentata Come vedete uscite dall'attività Ci sarà la schermata nera Subito dopo la schermata nera ragazzi Ci sarà appunto il gioco che diciamo ci farà ritornare All'interno dell'arena Aspettate circa un secondo ragazzi Un secondo e mezzo è molto importante Non appena riuscirete a cliccare la freccia destra Poco prima che la schermata del download In basso a destra nel vostro schermo Andrà a comparire Spammate quindi premete tante volte freccia destra Se avete fatto questo passaggio correttamente Come vedete boom Andando a premere ragazzi freccia destra Il vostro rc bandito si sarà moddato correttamente E ci sarà appunto poi la schermata di download In basso a destra Come potete vedere in questo momento nel video Che vi porterà appunto poi Nei dettagli possiamo dire della missione Del nostro contatto quindi di Geralt o di Simeon Vuol dire che a questo punto il glitch avrà funzionato correttamente Quindi quando saremo all'interno dei dettagli Della missione del contatto possiamo dire Quindi di Geralt o di Simeon Semplicemente ragazzi andiamo ad uscire E avremo correttamente ragazzi eseguito il glitch Per moddare l'rc bandito Quindi a questo punto il nostro rc bandito sarà stato moddato Dovremo semplicemente a questo punto ragazzi applicare Una modifica per salvare il veicolo Ovviamente vi ricordo che se avete passato Un colore moddato O comunque avete passato le mod di un veicolo moddato Al vostro rc bandito Non andate a cambiare il colore La targa o qualsiasi altro pezzo Tra virgolette moddato del veicolo Ma andate semplicemente a cambiare Come ho fatto io nel video O il design dei pneumatici Se il veicolo possiede appunto delle ruote di bennis Oppure semplicemente le coperture dell'rc bandito Quindi praticamente la carrozzeria possiamo dire Dell'rc bandito A questo punto ragazzi una volta applicata la modifica Il nostro rc bandito moddato Sarà stato salvato correttamente E quindi potremo utilizzarlo Per fare i prossimi glitch Per appunto moddare i veicoli Usando il nostro rc bandito Niente ragazzi Questo insomma è il glitch per moddare l'rc bandito Cosa posso dirvi per aiutarvi a fare questo glitch? Dovrete ragazzi anche qui Trovare il vostro timing Io comunque sia Ho provato parecchie volte Ho cambiato svariate sessioni Quindi se vedete che magari il glitch non vi funziona da subito Provate appunto a cambiare sessione Ricordatevi sempre di avere il luogo di rientro al bunker Altrimenti il glitch non andrà a funzionare E appunto se vedete che il glitch non vi funziona O comunque dopo 3 o 4 o 5 tentativi Praticamente la scritta download Quando sarete usciti dalla prima attività Non vi andrà a comparire L'unica cosa che posso consigliarvi ragazzi È di cambiare sessione E appunto diciamo Azzecare il timing giusto Vi ricordo che comunque per una spiegazione più approfondita Potete andare a guardare il video che ho postato un paio di anni fa Credo Vi lascerò il link nelle schede Detto questo ragazzi Nulla che dire Anche questo glitch è giunto al termine Prima di concludere ragazzi Volevo dire una cosa Come vedete anche questo glitch è lungo Però non vuol dire che Appunto voi andrete a fare questo glitch E ci metterete 20 minuti Perché appunto se fate questo Possiamo dire glitch In maniera Comunque ascoltate prima il video E poi l'andate a fare Vi posso assicurare ragazzi Che in meno di 3 o 4 minuti Riuscirete a moddare Appunto il vostro RC bandito Raga non è colpa mia Se questi glitch che stanno uscendo Hanno una spiegazione lunga Quando il cazzo di rosa Buongiornissimo Su quello col cazzo lunghissimo Cioè io ci provo a spiegare In un tempo rapido Però più breve di così Raga non riesco ad essere Smettetela di rompere il cazzo È vero Ho detto basta i video lunghi Però le spiegazioni ragazzi Rimangono lo stesso Il mio modo di spiegare Rimane lo stesso E non è colpa mia Cioè io non posso spiegare Un glitch che si fa in 4 minuti In 4 minuti appunto Perché altrimenti In primis non ci andrei a capire Niente manco io Figuratevi voi Quindi chi andrà a guardare il video Quindi nulla Se volete continuare a seguirmi Siete liberi di farlo Altrimenti Togliete l'iscrizione Chiudete Google E vaffanculo a tutti quanti Cioè non è che io posso Star qua ogni volta A dire Eh ma il glitch è lungo Ma ti posso assicurare Che è più facile A farlo che spiegarlo Perché così è regà Sti glitch che stanno uscendo Nel nuovo DLC Sono più facili a farli Che a spiegarli A spiegarli ovviamente Ci vuole il proprio tempo Ma vi posso assicurare Se voi O comunque tu Persona che stai guardando Questo video Ti metti a fare questo glitch Scoprirai Che in meno di 2 minuti Riuscirai a moddare Il tuo RC bandito E che quindi 20 minuti per una spiegazione Sono superflua Però per una spiegazione Dettagliata Sono più che sufficienti Cioè il discorso O comunque il concetto Che vi voglio far capire È abbastanza semplice Appunto da capire Detto questo Nulla Qua da Cricks è tutto ragazzi Io vi saluto Vi ringrazio Io spero abbiate apprezzato Se così è stato Mi raccomando Lasciate il vostro mitico Bell Pollicione Sonsi in su Che a me fa veramente Tanto piacere Inoltre mi raccomando Iscrivetevi al canale Per altri contenuti Ti mando la campanellina Che trovate accanto Il numero degli iscritti E vi ricordo sempre Di entrare nel mio nuovo Accounti glitchati O aggiunta di soldi Oppure servizi di recovery Per pc Al prezzo più basso d'italia Potete contattarmi Adonate i contatti Che troverete in descrizione Noi ragazzi ci vediamo domani Con due nuovi glitch Dei soldi Di duplicazione massiva Quindi mi raccomando Restate sintonizzati E niente Detto questo Vi saluto Vi ringrazio Qua da Cricks è tutto Noi ci si becca ragazzi Come al solito Con un prossimo video Prossima live Un prossimo glitch Bella Wai Giuuuu Ciao